UU DUOWEI, padre della bella donna nel mondo. Lo standard della bella donna stabilito da UU DUOWEI, ci sono 33 condizioni nello standard della bella donna. Una donna che soddisfa tutte le condizioni è una bella donna. 1. L'altezza è tra 1,64 metri e 1,70 metri. 2. Il peso è tra 50 kg e 60 kg. 3. La dimensione del seno, è tra si e di. 4. L'angolo tra l'orecchio e la faccia, è tra 170 gradi e 175 gradi. 5. L'angolo tra i due lati del mento, è tra 100 gradi e 115 gradi. 6. Sul viso, la dimensione della talpa, è tra 0 mm e 0,5 mm. 7. La larghezza dell'occhio, è tra 1 cm e 1,1 cm. 8. Non c'è linea concava, sopra 3 mm all'estremità superiore dell'occhio. 9. La distanza dall'estremità superiore dell'occhio al sopracciglio, è tra 1 mm e 2 mm più grande, della larghezza dell'occhio. 10. Il sopracciglio inclina verso l'alto tra 5 gradi e 10 gradi. 11. La distanza tra due occhi, è tra 3 mm e 6 mm più grande, della lunghezza di un occhio. 12. La larghezza del naso, è tra 3 mm e 6 mm più grande, della lunghezza di un occhio. 13. La larghezza della bocca, è tra 0 mm e 5 mm più piccola, della distanza tra i due iridi. 14. Lo spessore del labbro inferiore, è tra 0 mm e 1 mm più grande, della larghezza dell'occhio. 15. Il labbro superiore, è tra 1 mm e 3 mm più sottile, del labbro inferiore. 16. La distanza verticale tra l'estremità inferiore del naso e l'estremità superiore del labbro superiore, è tra 1 mm e 2 mm più grande, dello spessore del labbro inferiore. 17. La distanza dall'estremità inferiore del labbro inferiore all'estremità inferiore del mento, è tra 2 mm e 5 mm più piccola, della distanza dall'estremità inferiore del labbro inferiore all'estremità inferiore del naso. 18. La distanza verticale tra l'estremità inferiore dell'occhio e l'estremità inferiore del naso, è tra 0 mm e 5 mm più piccola, della distanza verticale tra l'estremità superiore del labbro superiore e l'estremità inferiore del mento. 19. La distanza verticale tra l'estremità superiore della linea dei capelli e l'estremità superiore del sopracciglio, è tra 0 mm e 5 mm più piccola, della distanza verticale tra l'estremità superiore dell'occhio e l'estremità inferiore del naso. 20. La fronte inclina all'indietro tra 15 gradi e 20 gradi. 21. L'occhio è tra 6 mm e 1,2 cm dietro la fronte. 22. L'intersezione della linea orizzontale all'estremità superiore dell'occhio e il naso, è tra 0 mm e 2 mm dietro la fronte. 23. L'intersezione della linea orizzontale all'estremità inferiore dell'occhio e il naso, è tra 2 mm e 4 mm davanti alla fronte. 24. Il mento sporge in avanti tra 1 mm e 2 mm. 25. Il mento è tra 0 mm e 2 mm dietro la fronte. 26. Il labbro inferiore è tra 4 mm e 6 mm davanti al mento. 27. Il labbro superiore è tra 2 mm e 4 mm davanti al labbro inferiore. 28. La bocca inclina in avanti tra 10 gradi e 15 gradi. 29. L'angolo tra il naso e la bocca, è tra 90 gradi e 95 gradi. 30. Il naso è tra 1,3 cm e 1,6 cm davanti alla bocca. 31. Quando si ride, la parte esposta, non ha gengiva sopra l'estremità superiore del dente. 32. Quando si ride, la spaziatura tra i denti esposti, è tra 0 mm e 0,5 mm. 33. Quando si ride, i denti esposti sono disposti ordinatamente. 33. Quando si ride, la parte esposti è tra 2 mm e 0,5 mm. 34. Quando si ride, la parte esposti è tra 2 mm e 0,5 mm.